in terra amara anticipazioni la puntata che sto per portarti ti lascerà senza parole dopo un assalto alla villa yaman da parte di alcuni uomini sconosciuti demir scomparirà misteriosamente e nessuno saprà più nulla di lui per giorni dove sarà finito demir se lo vorresti scoprire rimani fino alla fine e un altro terribile segreto verrà alla luce facciamo un piccolo passo indietro nelle strade di cucurova il mistero avvolge demir yaman come un'ombra indecifrabile dopo giorni di pressione insostenibile è scomparso nel nulla sfuggendo alle mani di chiunque cerchi di trovarlo la comunità è in preda al caos incapace di rintracciarlo ma quali oscuri eventi hanno portato a questo misterioso sviluppo demir yaman ha attraversato momenti estremamente difficili il suo matrimonio con zuleya in procinto di crollare a causa di un tradimento con umit una finta gravidanza orchestrata da quest'ultima per ricattarlo e la rivelazione scioccante di sevda come madre di umit la situazione è precipitata quando per proteggere la dottoressa demir è stato costretto a seppellire il corpo senza vita di sua madre le minacce di demir non sono passate inosservate agli occhi della legge con la polizia in cerca di sevda tuttavia quando trovano il corpo di sevda e la storia si complica demir viene arrestato e accusato dell'omicidio la sua fuga grazie all'aiuto di fikret sembra sollevare le sue speranze ma la polizia è convinta della sua colpevolezza betul la figlia di sermin giunge da parigi offrendosi di aiutare demir nella gestione della società yaman tuttavia dietro questa offerta si celano oscuri piani betul vuole prendere il controllo dell'azienda per sé e per sua madre aggiungendo un ulteriore strato di intrighi a questa storia intricata la sua nomina a direttrice ad interim cela intenzioni oscure che cambieranno il destino di demir yaman in modi inaspettati zuleya e demir inaspettatamente si trovarono ad affrontare un ostacolo imprevisto la vendita della percentuale della società da parte di zuleya il 25 per cento delle azioni demir nonostante i suoi sforzi non riusciva a trovare un acquirente in passato demir aveva avuto una relazione d'affari con erkan gumusoglu ma le cose erano finite male quello che non sapeva era che erkan covava un profondo desiderio di vendetta e aveva pianificato una vendetta senza pietà con l'aiuto di abdul kadir keskin erkan organizzò un'invasione nella villa di yaman che finì tragicamente con la morte di erkan in un incidente stradale la storia di questa faida giunse all'attenzione di demir il quale decise di condividere i dettagli con il fratello fikret temendo per la sicurezza della sua famiglia ora con abdul kadir keskin e erkan che sanno che fecheli è responsabile della morte di erkan hanno intenzione di recarsi a cucurova per vendicare sia demir che fecheli in questo contesto carico di tensioni demir recentemente evaso di prigione con l'aiuto di fikret si ritrova nuovamente nei guai mentre cercava di fuggire con zuleya e i bambini la villa subì un'irruzione di malviventi gettando tutti in uno stato di confusione la polizia già sulle tracce di demir ha reso la situazione ancora più critica zuleya e fikret mettono in atto ogni sforzo possibile per trovarlo mentre fecheli in un tentativo di redenzione chiede il rilascio per aiutare demir la domanda che si insinua nella mente di tutti è prima di continuare se il video è di tuo gradimento iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornata su questa fantastica soap ripartiamo dov'è finito demir era lì durante l'assalto si è difeso con tutte le sue forze per proteggere la sua famiglia un'ipotesi sussurra che i vandali lo abbiano rapito ma umit sostiene che sia fuggito e che zuleya si ricongiungerà presto a lui demir però non avrebbe mai fatto una cosa del genere la peggiore delle ipotesi è che non sia più tra noi come affronterebbero gli yaman la sua assenza cosa farebbe zuleya betul manterrebbe la compagnia per sempre e fikret perderebbe suo fratello proprio ora che avevano appena fatto pace si aprono dunque le porte alle teorie sulla scomparsa di demir è morto è fuggito è stato rapito tre teorie principali emergono sulla misteriosa scomparsa di demir alla fine della terza stagione di terra amara fuga rapimento o morte la verità sarà svelata solo nei prossimi episodi della quarta stagione una teoria sottolinea la possibilità che demir abbia fuggito nel caos dell'attacco alla villa ricercato dalla polizia potrebbe aver deciso di allontanarsi da cucurova anche se questa ipotesi sembra contraddittoria con la sua intenzione di portare con sé zuleya e i figli per proteggerli mettendo a rischio la propria vita un'altra possibile spiegazione della sua scomparsa suggerisce che sia stato rapito dagli uomini di erkan sfruttando il tumulto dell'attacco alla villa potrebbero averlo catturato per permettere a erkan di vendicarsi del presunto tradimento di demir in passato questa teoria giustificherebbe l'assenza di tracce e la sua apparente evaporazione nel nulla un'ultima ma non meno misteriosa possibilità è che demir sia morto durante l'attacco alla villa ucciso da uno degli uomini di erkan tuttavia il suo corpo non è stato rinvenuto da nessuna parte aggiungendo un ulteriore alone di incertezza a questa già complessa vicenda il sipario si apre su tre scenari avvincenti e solo il futuro svelerà quale di essi si rivelerà essere la verità secondo voi che fine ha fatto demir l'unica cosa che forse speriamo tutti quanti è che sia ancora vivo e che possa ritornare presto dalla sua famiglia se vorresti il continuo della storia scrivi certo nei commenti e se ti iscriverai riceverai altri nuovi video in anteprima grazie di cuore ciao ciao ciao